La mia prima domanda riguardo al sviluppo culturale di Gorizia, in questi ultimi mesi c'è stato un grosso fermento, cosa c'è in programma per il futuro di Gorizia su questo fronte? Io parlo anche da una piccola promessa, innanzitutto la nostra città per quanto piccola sia ha grandissime opportunità culturali ma anche per il fatto suo stesso di essere città di confine. Di cultura si mangia, di cultura si vive. Quando prendiamo il teatro non è la cultura occupazione del tempo libero ma è l'opportunità alle persone di poter crescere interiormente nel vero senso della parola. Le opportunità culturali perciò sono anche l'occasione da parte nostra di rappresentare una città. Cultura perciò è la presenza della comunità ebraica a Gorizia, oggi estinta. Cultura certamente sarà quella sulla quale ci stiamo potenziando, che è riferita alla candidatura a capitale della cultura europea insieme a Nova Gorizia. Ricollegandoci al tema trasfrontaliero, il GECT in questi ultimi tempi si è molto attivato, penso al progetto della piazza Transalpina. Quale sarà il ruolo del GECT nel futuro sviluppo di Gorizia e Nova Gorizia? Ma dirvi vero, ho visto sui social che è stato dando grande risalto al progetto della Transalpina, ma in realtà il GECT nasce con progetti molto più importanti. Ad esempio, oltre che confine, fra pochi mesi, 4-5 mesi, verrà inaugurata una passarella ciclopedonale in zona Salcano. A Vertoiba, uno spazio dedicato al camper, al turismo. Grazie alle risorse del GECT, noi a metà del prossimo anno avremo finito una rete di piste ciclabili che da via degli scogli, perciò in prossimità del confine con Nova Gorizia, arriverà fino a via le 20 settembre per collegare poi al diale e all'asse principale della città, Corso Verdi e Corso Italia. Perciò noi useremo queste risorse, in parte queste risorse, per rendere più fruibile la città anche da parte di quelle persone che vogliono andare, vogliono usare la bicicletta, ma lo vogliono fare in totale sicurezza. Non solo, le risorse del GECT nell'ambito della sanità sono state utilizzate per realizzare un GECUP, per realizzare 500 mila euro, per realizzare anche la cosiddetta casa del parto, dove le donne potranno partorire laddove non ci sono naturalmente pericoli, anche perché il parto non è una malattia. 8 parti su uno dei 10 avvengono in totale rigorosa sicurezza. Cosa deve fare il GECT? Noi oggi, per il prossimo settennio, intendiamo intercettare risorse europee per rendere appetibile la città anche per futuri investimenti. L'obiettivo comune di Nova Gorizia, Gorizia, Scempette e Vertoi, è quello di dotare il nostro territorio di strutture capaci di attrarre studi universitari, giovani, investimenti, cioè creare occupazione. Tema università, recentemente il Consiglio Comunale si è occupato della questione del consorzio universitario, che ruolo avrà l'università nello sviluppo di Gorizia e soprattutto c'è l'intenzione di coinvolgere anche l'Ateneo di Nova Gorizia? L'università è strategica, strategica non è tanto per i ragazzi 1500, 1800, 2000, cioè per me non è strategico per gli affitti, le locazioni, perciò per gli sprizzaper o i consumi che vengono fatti. L'università è eccezionale per quella contaminazione col territorio, cioè quello che gli studenti, quello che acquisiscono all'interno dell'ambito accademico, poi possono riportare sul territorio. Diverse start-up sono nate nella nostra città grazie appunto a studenti universitari che hanno riportato sul territorio quello che hanno imparato, che hanno acquisito all'interno dell'università. Il consorzio universitario era molto datato, uno strumento di 30 anni fa, quando uno ha una macchina vecchia e deve competere con altre macchine, deve usare naturalmente una macchina nuova. La macchina nostra nuova qual è? Guardarci a 360 gradi intorno, non più soltanto i due Atenei di Trieste o di Udine, un unico tavolo di concertazione dove aggiungere anche altre persone che si dedicano all'ambito accademico, Isic ad esempio, ma anche il GECT, cioè per poter coinvolgere l'università di Nova Gorizia, certo, ma non solo, l'università di Ljubljana, di Zagabria, di Salisburgo, l'università di Vienna, fare in modo perciò che Gorizia possa attrarre degli accademici perché noi abbiamo constatato, toccato a comando, che quando qualcuno viene a Gorizia si innamora della nostra città. Perciò a me piace pensare un territorio davvero dove si possa passare al di qua e al di là delle confine indistintamente, ma è perciò non soltanto come in riferimento alla domanda precedente un territorio attrattivo nei confronti di attività imprenditoriali, ma un territorio attrattivo anche in riferimento a nuovi sedimenti accademici.